Qualunque cosa, pur di liberarsene. 10 mila tonnelli, si fida di me? No, ma per mestiere ammazzo la gente. Un corpo da reato. Tutti vorrebbero avere denti bianchi così. Purtroppo col tempo, alcuni cibi e bevande, il fumo, possono macchiare i denti. Ma da oggi può aiutarti Vivident White. Masticare regolarmente Vivident White aiuta a mantenere il bianco naturale dei denti. Per un sorriso più bianco e una bocca più fresca, c'è Vivident White. Cosa pensa della nuova Micra Glamour? Ti sembra Glamour? Ma è di moda. Ma pedala, va. Ma torio. Conosci la nuova Micra Glamour? Quale? Quella con il climatizzatore incluso nel prezzo. No, non l'ho mai vista. Ma come? Se ne vada. La nuova Micra Glamour? Bellissima. Interni in due colori coordinati con gli esterni. Nuove tinte esclusive. È deliziosa e poi non consuma niente. Chiedi a chi una Micra ce l'ha già. La gamma Micra parte da 16 milioni e 200 mila. Tipo www.enitalia.com Ho le gambe a pezzi. Non sembra. Tirati spesso, vero? Radermi mai. Uso Vette crema con la nuova spatola. Depilazione perfetta. Pelle più liscia, più a lungo. E guarda dopo una settimana. Vette. Più liscia, più a lungo. Scopri la sensazione di un ricamo sulla neve. Scopri la novità di Line Seta Ultra Filtrante Ricamo. La rivoluzione ricamata. Guarda come assorbe. Funziona meglio perché rimane compatto e non si solleva. Così non lo senti, non ci pensi. Nuovo Line Seta Ultra Filtrante Ricamo. L'assorbente che si fa dimenticare. Ivano ce l'ho, Pino ce l'ho. Uh, bastiali le zoocard. E non stanno mai ferme, eh? E quello con il carletto, cioè me, sul monopattino, te lo fa vincere il monopattino. C'è una zoocard? In ogni confezione di sofficini Findus. In ogni confezione di sofficini,